Le tre persone divine sono uguali? O ce n'è una maggiore, più potente o più sapiente? Le tre persone divine, essendo un solo Dio, sono uguali in tutto e hanno ugualmente comune ogni perfezione ed ogni operazione, sebbene certe perfezioni e le opere corrispondenti si attribuiscono più all'una persona che all'altra, come la potenza e la creazione al Padre. Primo, le tre persone divine, essendo un solo Dio, sono uguali in tutto. Ogni persona è Dio e vi è un solo Dio. La natura, per via della quale ogni persona è Dio, è quindi unica e unica e comune. Le tre persone sono le perfezioni che si identificano con la natura, l'esistenza, la bontà per cui sono e operano, la verità, la vita, ecc. Uniche e comune sono anche le operazioni ad extra, che corrispondono alle perfezioni. Perciò le tre persone sono uguali in tutto e sarebbe un errore grossolano dire che una persona è più perfetta delle altre due. Secondo, e hanno ugualmente comune ogni perfezione. Le perfezioni divine, figurate dalla via, sono una sola cosa con la divina natura e quindi con Dio. La bontà, la potenza, la sapienza e la verità, la bellezza, la santità, la giustizia, la vita, ecc. Sono Dio stesso, io ogni persona e ciascuna e tutte le perfezioni. Tanto il Padre che il Figlio e lo Spirito Santo sono la bontà, la potenza, la sapienza, la bellezza, la verità, la vita e ogni altra perfezione figurata dalla via. Terzo, ed ogni operazione. In Dio vi sono le operazioni o vie ad intra e le operazioni o vie ad extra. Le operazioni ad intra si compiono in Dio stesso e si identificano con le persone. Sono la generazione attiva del Padre e passiva del Figlio, la spirazione attiva del Padre e del Figlio e passiva dello Spirito Santo. La generazione attiva si identifica col Padre, quella passiva col Figlio. L'aspirazione attiva è il Padre e il Figlio, quella passiva lo Spirito Santo. Le operazioni o vie divine ad extra sono quelle che Dio compie fuori di se stesso, producendo qualche cosa distinta dalla divina natura. Sono operazioni ad extra, la creazione, il governo o provvidenza del mondo, la santificazione degli esseri intelligenti e liberi. Queste operazioni ad extra sono comuni alle tre divine persone, in modo che sia il Padre, sia il Figlio, sia lo Spirito Santo creano, governano, santificano. Quarto Sebbene certe perfezioni e le opere corrispondenti si attribuiscono più all'una persona che all'altra, come la potenza e la creazione al Padre. Le perfezioni, per esempio la potenza, la sapienza, la santità, e le operazioni ad extra corrispondenti, per esempio la creazione corrispondente alla potenza, l'ordinamento e il governo delle cose corrispondenti alla sapienza, il perfezionamento e le santificazioni corrispondenti alla santità, procedono dalla natura divina e sono comuni alle tre persone. Tuttavia, noi attribuiamo a una sola persona alcune perfezioni e le corrispondenti operazioni ad extra, a una persona in particolare, anziché a tutte e tre, in comune e alla divina natura. Essendo la Trinità inseparabile, non potremmo mai capire chi vi è la Trinità, se parlassimo della Trinità come inseparabile. Da San Leone Magno, discorso di Pentecoste, lo stesso San Paolo riferisce il nome di Dio e gli effetti prodiciosi al Padre, al Figlio, il nome Signore e i ministri, sacerdozio, apostolato, allo Spirito Santo la distribuzione delle grazie. Vi sono distinzioni di dono, ma un medesimo Spirito, e vi sono distinzioni di ministeri, ma un medesimo Signore, e vi sono distinzioni di operazioni, ma lo stesso Dio è quello che fa in tutti tutte le cose. Dio è quello che fa in tutti i giorni, ma un medesimo Spirito, e vi sono distinzioni di dono, e vi sono distinzioni di dono, ma un medesimo Spirito, e vi sono distinzioni di dono, Grazie. Grazie. Grazie.